E' una questione in sospeso a Monte del Fiume, con cui puoi aiutarmi. Oppure cerchiamo il santuario elfico nel deserto di Alphire. Per continuare l'esplorazione, dobbiamo rimuovere quel tronco dal fiume. Per continuare l'esplorazione, dobbiamo rimuovere quel tronco dal fiume. Lo stemma della famiglia Illy. Una delle prime ad essere distrutte dalla guerra. Lo stemma di Kvasir, il saggio. Anche se Kvasir, l'ubriaco, sarebbe più corretto. Lo stemma di O'Enyr. L'esplorazione. L'esplorazione. Preparire. elye. Preparire. Vi chiedo Che altro c'è da sapere sul gruppetto di Aizir che bruciò Freyr? Beh Freyr non fu mai più lo stesso dopo Beh, per un po' almeno La sua spensieratezza lasciò il posto a incubi, paranoia e crisi di rabbia Basta chiacchiere Pronti Questo stemma era di Odino Era un'offerta di pace dalla mia gente Quanto lavoro sprecato Ma capisco il motivo della sua rabbia Questo stemma Mio Basta chiacchiere Ho Grazie per la visione!